Si chiude la partita sul nuovo assetto della giunta della Regione Marche. Acquaroli ha perso metà dei suoi assessori che hanno preso la strada per Roma insediatesi in Parlamento lo scorso 13 ottobre, una data in cui sono stati salutati i neo-onorevoli Mirko Carloni, Giorgio Alatini e Guido Castelli. Nelle ultime ore Acquaroli ha anche definitivamente scelto i sostituti. Primo nome, quello di Andrea Antonini, sarà infatti il consigliere regionale ascolano della Lega a prendere buona parte delle deleghe che erano di Carloni. Antonini diventa infatti il nuovo assessore a sviluppo economico, agricoltura e fondi europei. Dalla Lega è uscita in direzione Montecitorio anche Giorgio Alatini, dalla Lega entra una nuova assessora. Chiara Biondi, consigliera regionale fabrianese, è il nuovo assessore con delega cultura, istruzione e pari opportunità. Ultimo nome, il più tribolato, è quello in quota Fratelli d'Italia. Sarà infatti Goffredo Brandoni, ex sindaco di Falconara, ad ereditare le deleghe di Guido Castelli. Brandoni sarà il nuovo assessore a bilancio personale e trasporto pubblico. Una carica che fin dalla campagna elettorale di agosto pareva assegnata a Carlo Ciccioli, le cui ultime infelici dichiarazioni sul consiglio regionale dell'alluvione hanno costretto ad una dolorosa retromarcia a dispetto di scuse e chiarimenti di Ciccioli. Parte dunque una nuova fase del governo regionale, con Antonini, Biondi e Brandoni ad affiancare i confermati assessori Saltamartini, Baldelli e Aguzzi, che da due anni sono il motore della giunta.